benvenuti a Lanzara antico casale oggi frazione del comune di Castel San Giorgio parte di quella che doveva essere la città dell'agro nocerino sarnese a metà strada tra Napoli e Salerno un angolo di stupore e meraviglia nella frazione Lanzara è Villa Calvanese con questo bel giardinetto ricco di rimandi al mondo classico, vialetti, specie arbore, un trionfo di poesia e di natura Palazzo Calvanese fu fatto edificare nel 1757 dall'architetto Carmine Calvanese ha una cappella annessa oggi restano le colonne classicheggianti purtroppo le decorazioni barocche che caratterizzavano ad esempio le finestre oggi non ci sono più ma le ricordiamo grazie alla preziosità di questi gioielli principale luogo di culto di Lanzara è la chiesa di San Viaggio più volte rimaneggiata nel corso del tempo la ristrutturazione fondamentale però si deve grazie all'interessamento dell'architetto della villa Carmine Calvanese preziosa e degna di nota è la flore dell'orologio edificata solo nell'ottocento all'interno una preziosissima tela di Antonio Giordano grazie a tutti